buona giornata con l'almanacco barbanera oggi è il 20 febbraio si festeggia santa amata il nome amata rappresenta il femminile del nome tardo latino amatus con il significato letterale di amata dice il proverbio ogni grossa bufera si annuncia la sera sono nati oggi riccardo cocciante ivana trump rihanna il 20 febbraio 1872 viene inaugurato a new york il metropolitan museum of art il met oggi è uno dei più grandi ed importanti musei del mondo e contiene più di due milioni di opere d'arte nel 1909 viene pubblicato sul quotidiano parigino le figaro il manifesto del futurismo di filippo tommaso marinetti una raccolta di pensieri convinzioni e intenzioni dei futuristi che raggiunse subito una fama internazionale infine il 20 febbraio 1987 accolto con una lunga standing ovation torna in televisione con il suo portobello enzo tortora paolo quello ha detto ci sono momenti in cui la pazienza per quanto difficile sia esercitarla è l'unica maniera per affrontare determinati problemi arrivederci da barba nera dal 1762 l'almanacco più amato d'italia